Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla reazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Il traffico scorre al momento regolare su tutta la rete autostradale della Toscana. Sul raccordo Siena-Firenze per lavori ci sono code a tratti in entrambe le direzioni tra San Casciano-Valdipesa e Bargino. Sulla A12 lo svincolo di Rosignano-Marittimo è chiuso fino al 21 marzo in entrata e uscita in direzione sud. Fino a metà febbraio la statale 1 Aurelia sarà chiusa a Pisa in corrispondenza del bivio per Coltano per lavori di ricostruzione del cavalcavia. Ricordiamo l'obbligo di dotazioni invernali a bordo, catene da neve o pneumatici stagionali. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!